In questo ultimo anno la Chiesa Christian Grace Ministries, grazie alla guida dello Spirito Santo, ha sperimentato un periodo di continue novità che hanno caratterizzato la prosecuzione della visione apostolica ricevute dal pastore Tony Moscato. Il ministero apostolico ha continuato a portare i frutti grazie alle attività introdotte come i gruppi di ricrescitaggi groups, gli incontri di leadership e i gospel di guarigione e adorazione. L'introduzione dei gruppi di ricrescitaggi group ha permesso una cura più personale diretta ad ognuno che consente l'inclusione di tutti affinché nessuno rimanga in ultima fila o all'ultimo posto ma possa ricevere assistenza spirituale in ogni momento. La parola di fede, impiantata inizialmente nella città di Reggio Calabria, ha portato dei frutti, non soltanto localmente ma si è espansa lungo il territorio nazionale, consentendo la nascita di nuove opere come Lombardia e Impuglia. Inoltre vi è la presenza di gruppi nel Lazio, nel Piemonte e nel Veneto. La predicazione della parola si ha dal ministerio dell'Apostolo Toni Moscato. L'amore di Gesù Cristo manifestato nell'opera della croce compie miracoli giornalmente in ogni problema, situazione, richiesta, necessità o dubbio che caratterizzano la vita di ogni persona, intervenendo con risposte non possibili con il solo intervento umano. La sede centrale è situata a Reggio Calabria e gode di un'estesa area destinata ad attività di Campus Sociale, denominato iSend Campus. Sono in sviluppo attività ricreative e sportive, ovvero di supporto alle famiglie, al fine di coinvolgere tutti senza distinzione in un ambiente favorevole e sano. Inoltre tra le varie attività è possibile individuare il gruppo di acquisto solidale, Gas Reggio e delle associazioni di volontariato totalmente operative, con numerosi distaccamenti su tutto il territorio nazionale. Vi sono anche cooperative sociali con svariate attività commerciali e artigianali, nelle quali numerose famiglie e associati hanno avuto opportunità lavorative. È nato il Caffo Compadronato, che insieme al già consolidato centro contabile e fiscale danno supporto e assistenza a tante famiglie reggine. Altre attività, come ad esempio il servizio Mensa e il Banco di Sustegno alle Famiglie, attraverso la distribuzione di pacche alimentari e il Banco Farmaceutico, sono sostenibili grazie al contributo di numerose associazioni e volontari. Il campus offre attività formative e di sviluppo di opere sociali. È un punto di riferimento e di ritrovo per famiglie, ma anche per giovani e persone della terza età. Tutte queste attività sono finalizzate alla manifestazione dell'opera e della testimonianza dell'amore di Dio per il mondo, attraverso un impegno sociale, pratico e concreto, che si manifesta nei frutti dell'Espirito grazie alla guida apostolica e profetica ricevuta. Quello che stiamo facendo è per voi. Quello che noi stiamo vedendo è per voi. Quello che stiamo vedendo è per voi.